il circo la più spettacolare delle attrazioni domenica alle 20 e 20 sotto il tendone di rete 4 una gran festa tutta per voi con tanti fantastici numeri e tanta emozione uno spettacolo indimenticabile con tanti amici per tante fantastiche domeniche in diretta da milano appuntamento col grande circo di rete 4 domenica alle 20 e 20 avanti c'è posto per tutti